Avrei voluto non essere qua, ma sono stato costretto dalle vicende di questi ultimi giorni. Mi riferisco alla vicenda nota del passaggio di Vucinis, presunto passaggio e possibile passaggio di Vucinis e di Guarinna, ma più specificamente al comunicato stampa emesso dall'Inter nella giornata di ieri, precisamente alle 18.48. Abbiamo definito sconcertante il comunicato stampa perché in realtà conteneva delle situazioni non veritiere, delle situazioni false. Si accenna di aver deciso da parte dell'Internazionale di non procedere nella trattativa con la Juventus per il trasferimento dei calciatori Freddy Guarinna e Mirko Vucinis. In realtà questa trattativa era già stata definita tra le parti. Devo dire anche, a supporto di questa tesi, che il Presidente Andrea Agnelli ha più volte tentato di mettersi in contatto con il collega Presidente Toirre e nella giornata di ieri, alle 10.48, ha ricevuto un SMS da parte sua che dava l'assenso definitivo all'operazione. In realtà, come sapete, la cosa è assolutamente saltata, non abbiamo capito perché, ha una situazione incresciosa, una situazione che, come potete ben capire, ha portato nel disagio più assoluto sia Vucinis che Guarinna, il quale, su autorizzazione della stessa Inter, aveva avuto contatti con noi ed eravamo arrivati alla definizione economica e alla durata del suo contratto. Al di là dell'Inter, com'è la situazione di Vucinis? Chiaramente il suo stato d'animo è veramente precario, evidentemente, perché non dimentichiamoci che comunque sono anche dei ragazzi non abituati a queste dinamiche della vita. Di conseguenza è molto dispiaciuto, l'abbiamo rincorato, dicendo che comunque assolutamente la Juventus non l'abbandonerà mai, perché, come ho detto prima, la Juventus è grata per quello che ha fatto. Il fatto che si sia aperto a questo spiraglio di trasferimento lo si è aperto solo ed esclusivamente, perché è stata la stessa Inter, verso fine dicembre, a chiedere l'autorizzazione e potergli parlare. Abbiamo così incontrato l'Inter per vedere quali erano le possibilità attorno a questo trasferimento, non esistevano contropartite economiche, ci siamo allora inventati per facilitare questa cosa un eventuale, tra virgolette, baratto. Abbiamo identificato un giocatore del loro che era Guarin, quindi, come dire, questa iniziativa è partita solo ed esclusivamente da loro. Siamo trovati in grande difficoltà. La difficoltà, come vi ho detto prima, l'ha avuta anche il massimo dirigente della Juventus, che è Andrea Agnelli, perché non siamo riusciti a capire che cosa fosse successo. E quindi, chiaramente, io mi guardo bene da allestire un'ulteriore trattativa con loro, perché non dico che si possa parlare di mancanza di affidabilità, ma sicuramente di mancanza di serietà, sì. Cosa deve succedere perché voi un domani possiate tornare a sedervi serenamente al tavolo delle trattative con l'Inter? Ma deve succedere, come ho detto prima, che quantomeno il massimo responsabile dell'Inter, cioè il dottor Toir, parli con Andrea Agnelli, perché è giusto che parli con lui, dia delle spiegazioni a quello che è accaduto, perché noi ci siamo rifatti o a un comunicato, che come ho detto è infondato, e l'esivo anche dell'immagine della società, o a, direi, immagine televisive, nel corso dei quali un dirigente come Fassone ha definito le problematiche di carattere ambientale. Io non è che possa capire bene cosa significa ambientale, però ecco, queste sono assolutamente le risposte che noi abbiamo avuto. Grazie.